Allora amici, stasera si fa Fortnite Simulator insieme a il BEMTRA Non lo so che giorno inizia, mazzo, non credo l'undici, sarebbe molto cattivo E stasera si fa insieme al BEMTRA, quindi vediamo se esiste Sono pazzo, sono pazzo, sono pazzo, sono fottuto Porca troia mi hai bucato le orecchie, Dio scafandro, pezzo di merda Ma vaffanculo, ma vaffanculo Salutate il Polodo ragazzi, salutate il buon Polodo Ma non te la sei presa sul serio, vero? No, non me la sono presa sul serio Cioè è parte delle... No, è parte delle... No, mi sono arrabbiato, mi dispiace, basta, non siamo più amici No, non lo sapevo, se mi avvisavi prima non lo facevo No, mi dispiace Allora torniamo indietro Sono pazzo, sono pazzo, sono fottuto Ah, mi hai fatto una burla, ma sei simpaticissimo Ciao BEMTRA, come stai? Bene, tu? Tutto, tutto sì Stasera che si fa? Sesso, eh, giochiamo a Fortnite, il Battle Royale preferito di tutti Aspetta, non ho capito, cosa facciamo? Giochiamo a Fortnite No, vabbè Ma ci farà accompagnare il nostro miglior amico Xuder CiccioGamer89, ah no No, Ciccio non gioca più a Fortnite Gioca ormai solo a Clash Royale Come te, d'altra parte, effettivamente Sì, io ora sono un pro-gamer Diciamo che sono allo stesso livello di Ciccio Ah, ok Eh sì, sì, effettivamente ti ho visto che sei un po' lanciato Dai, giochiamo a Fortnite Quindi, questo è Fortnite, ragazzi E ho anche... Aspetta, io non ci sono ancora su Fortnite Aspetta, vai su Fortnite che ti faccio vedere una cosa divertentissima Ok Sei su Fortnite? No, aspetta, codice creatore Poldo89 Aspetta Mettilo Dimmi quando l'hai messo No, vabbè, ma sei un cetriolo Mi sono trasformato in un cetriolo, Poldo Si è tramontato È la cosa più divertente del mondo È un cetriolo È un cetriolo Non è la cosa più divertente del mondo Perché sono un cetriolo, Poldo No, mi ricorda una famosa serie che ho visto un po' fa Un anime, si chiamava Rick and Morty È un po' underground Sì, no, mi ho sentito parlare Sì, è una roba che non molti conoscono Però fa, cioè, troppo divertente Cioè, sono un cetriolo Ok, partiamo Ok Autoteam Come funziona? Cosa devo fare? Ah, sei tu il capo Metti autoteam magari E poi facciamo play Ma squaddo e quanti siamo? Boh, penso sia quattro come Fortnite Ciao, Sapparax Grazie per la sub, carissimo E ora vediamo Facciamo play e controlliamo No, cioè Punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram Grazie della sub Cioè, tu dici anche play come i veri Fortnite player Guarda, sta cercando un match Incredibile No, troppo Cioè, incredib... Oddio No, vabbè No, incredibile, siamo nell'acqua Ma è come nella lobby di Fortnite Possiamo bullizzare gli utenti No, l'utente, l'utente è arrabbiato Ecco, di BEMtra Ciao Ma è un Fiorri Sei un Fiorri? No, non sono un Fiorri Ma questo è... Ma quello è un King Ha fatto parkour Aspetta, lo faccio anche io No, è incredibile Ma dove sei, Paul? Io non ti vedo Aspetta, vado in alto Vicino a me c'è Luigi No, cioè, io sto picchiando uno Che bella la violenza No È incredibile L'ho raggiunto Ma dove sei? Non te vedo Facciamo una cosa Salgo veramente in alto E... E arriviamo E ti vedrò Madonna È difficilissimo fare parkour Mamma mia È veramente difficile Mirror's Edge Comunque... Comunque ci sono già 41 persone Sto gioco non è morto Mantex Ciao Bentornato carissimo Come stai? Grazie per i 200 bit Grazie di cuore Apri la mappa un secondo Scusa Grazie di cuore Come si apre? Oh Gesù M Oh Gesù Actual Finland In alto a sinistra È bellissimo Actual Finland In alto a sinistra Dove c'è il castello Con la faccina Actual Finland Che bello Che bello È stupendo Turbo Aio Tall Work Circle Town Oddio è iniziato il gioco È partito il game Ma siamo nel 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 No è nel Nel Quando quando Andiamo a Circle Town L'ho segnata sulla mappa Come si fa? Ma dove siamo? Ma siamo lontanissimi Ah Bertrack Sì c'è il ping F Oh porca troia Ok Sto Dio Ma ti lancia malissimo Ciao Bertrack Mi sono schiavato Dove sei? Boldo Sì andiamo Ma sono tutto molliccio Mi sento un po' Adriano Celentano Anche detto il molleggiato Io stavo cercando di Ah no non è raste questo Ah ci investono Ma no Dannazione Più vigili per Napoli Andiamo Ho un'arma Ho un'arma Ho un'arma Ho un'arma del battle royale C'è un nemico No è un amico Come si funziona il gioco Come si funziona Io ho un caricatore Non ho paura di usarlo Io prendo tutto Io ho un'arma E non ho i colpi Io ho un'arma E non ho i colpi Cosa sta facendo Bitbox È il mio personaggio No Ho trovato un ammitragliatore E calmissimi che qua c'è un po' il panico C'è un po' veramente panico Perché sta bitboxando sto cretino Scaramuro cappella Ah mi tocca nel cazzo Mi tocca nel cazzo Poldo Aspetta Ma credo che questo sia amico Che panico questo gioco È morto Ce l'hai sopra L'ho ucciso forse Non lo so No è qui giù Ho un P90 Madonna quanto sono grosso Lo crocco lo crocco Seguimi Non so dove sei Non so dove siamo Lo crocco aspetta 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 Muori Maradona No Maradona no Poldo no Lo sto Lo sto menando L'ho ucciso L'ho ucciso No ce n'è uno Ah c'è gente Ma era un mio amico questo Ah è pieno di gente No non hai colpi Porco troio Poldo dove sei No Aspetta aspetta Devi ressarmi Ressa mi plodo Sono qua Solo da C'è gente che Ah Ah sbora mi ti prego Poldo Stai fermo Tirami su Ok sono effettivamente Ti devi calmare Ti devi calmare Sei troppo nervoso Fratello Mi hanno riempito di schiazzi Aspetta un attimo Scaramuro cappella C'è un amico Ah Ho finito i colpi Poldo Salvami In quella sorta Ho tirato una granata Credo Ma no Ma è troppo difficile questo gioco Ah ma non mi ha croccato No ma questo gioco È troppo È troppo Battle Royale Call of Duty Aspetta Ah mi ha sborato Poldo mi ha sborato Tirami su Eh sono senza colpi Ragazzi Io Ragazzi io Mi sto innervosendo Perché comunque È un po' Troppo pericoloso Questo gioco È un po' Troppo pericoloso Ma Ma cos'è sta roba Sono in paradiso Ma Ah oddio Devi evitare Oddio No Posso respawnare Cioè ti fa Non ci credo Ma questo gioco è troppo stupendo Cioè è troppo Ah Ma io sono morto Non ho capito niente È davvero difficile Questo gioco Ok respawno con una maledizione È il Gulag È il Gulag Ragazzi Gulag momento Mi raccomando Subatevi 100.000 like Ho la maledizione E Mantex Grazie di cuore Per il terzo mese Bentornato Ok sono effettivamente Tornato Ciao bello Bentornato E scusami Eccomi Stavo ringraziando Per una sub Però credo mi sia crashato Il gioco Come ti sia crashato Il gioco Credo mi sia crashato Il canestro Ma guarda quanto sono forte Incredibile raga Lo stavamo giocando A fortuna Che c'entra il canestro Mi è crashato Il gioco Bertra Ma com'è ti è crashato Il gioco Mi è crashato Il gioco Bertra Mi è crashato Il gioco Bertra E sparati Che ne so Fra Molto molto Da amico Comunque Che cazzo Ti devo dire Su chiami il cazzo Ah mi hanno flashato Claccio raga Perché devo Misgenerare Non ho capito Aiutami Mantex Grazie di cuore Bello Intanto per l'area sub E giuro Che adesso riusciamo a vincere Non vi preoccupate È giusto un attimino Il momento Pugni dove sono i pugni Picchialo Porco Dio Adesso ti invito Raga come si fa il Come si colpisce Il gioco mi ha detto Bye bye Sono veramente offeso Da questa cosa Adesso ti invito Eh rinvitami Grazie Ti ho invitato Oddio stai cadendo Poldo Perché stai cadendo Perché sei caduto No non ti preoccupare Ogni volta che cado Mi riauzzo io Madonna Ma tu sei troppo Un ciclo male Ah no È spawnata la mappa Congratulazioni Ho visto un casino Di acqua Ah eccoci qua Vediamo Allora jump Crouch Gangsta G Interact Alloster Allora Bertra Credo che le funzionalità Di questo gioco Siano abbastanza difficili Perché io Non sono riuscito A comprendere Come funziona Cioè tu prendi un'arma E spari Perché se è così È molto violento E non credo Che parteciperò A questa cosa Ah dici che Scusami Non potevo No io sono contro La guerra C'è Microsoft Excel In un albero Poldo dove sei? Dove sei? Sto guardando Microsoft Excel Dove sei? Ember No niente Mi dispiace No è incredibile Allora dove ci buttiamo? Dove è? È Parco Pacifico Parco Pacifico E allora Decidi tu dai Andiamo nell'area 64 Madonna L'area 69 Dove è il ma Oh 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 Bella questa Mi è piaciuta Allora siamo insieme a Morph Panda Ah c'è un tizio Anche ma incredibile Siamo troppo noi Ha una grande responsabilità Questo ragazzo Dove ci dobbiamo lanciare? Dobbiamo andare Dove c'è il ping Ah boltati Sono pazzo Sono pazzo Sono pazzo Sono fottuto Ci sono un sacco di persone qui Eh porca troia Mi butto con te Bempra Ho mai risvegliato Io sono sul muro Il muro di Donaldo Trump Cioè quello No vabbè Hai letto la guida di Ciccio Prima di giocare Messicani Scusa ma il mio bot vocale Oddio la mia faccia Ha detto Hai letto la guida di Ciccio Prima di giocare No è incredibile Ciao Sono io Ma hai urlato Scoppio ritardato Ma che è successo? Mi dissocio tra l'altro No poldo Poldo si possono prendere le armi dual wield Aspetta 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 Io sto Io sto cecchinando da qua sopra Anch'io ce l'ho lo sniper American sniper Dove cazzo? Io non ho i colpi Più 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 Ah ma devo ricaricare Ecco come funziona questo gioco No è incredibile Tipo in un gioco dove si spara Si ricarica anche Mamma mia Poldo stai usando un fucile a pompa come sniper O sbaglio? Ah è ma punto adesso Scusami Andiamo Vai Non c'è il danno Drop Droppati Mamma mia Mirror Sage Una K47 No stavo per dire una cosa orribile Ah mi sparano Mi ho mandato una a terra Sono fortissimo Andiamo Alberto Andiamo Vai Croccalo Ma mi spinge via quest'arma No No Vai 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 E' libero? Non lo so Mi sono incastrato in un palo Madonna Poldo sei veramente andato Oh Cristo Dio scusa sono andato No Cosa ho fatto? Hai risvegliato la figa E lei è un scimmia Aiuto Come hai potuto? Aiuto Non sto capendo niente Sono ad un anno del parto Con occhiali da sole Faccina Con occhiali da sole Faccina Arriva Arrivo Mi stanno scoppando Madonna sei pazzo Madonna Madonna Sono pazzo Sono pazzo Sono fottuto No sto per morire Poldo no Questo gioco è più difficile di fare sesso Sei vivo o sei morto? Ma non lo so Sì sono morto Però posso respawnare Aspetta Usiamo il gulag infatti Welcome to the gulag Ma come funziona questo gulag? Devi evitare i cubetti A passare nel cazzo Prima che si chiuda il cazzo Level one completed Ok quindi respawni con una maledizione Che tipo Il cazzo è piccolo No No Ho perso Pure io Madonna siamo scandalosi Arrivo ringrazio le sub No A me sono respawnato in realtà E anche io Vado da move panda allora No dove è morph panda? Eh io sto andando da morph panda Andiamo da morph panda Quanto lagga il gioco Ah Ah A me no Mi sono croccato su un albero Morph panda amico mio Arrivo Oh no Arrivo arrivo Io voglio sapere Ma perché Ma mi torna indietro Uffa Eh faccio il bagnetto Ma va a ridere Perché il bagno fa ridere Ok bravo Ok Piano Munizioni Io ho bisogno di armi Ma Cos'è Cos'è Bertra per favore C'è gente C'è gente che si picchia Porco due Non ho niente Dove dove Qua sopra c'è un'arma Prendila Qua da me Qua da me Qua da me Dammi la sborra Dammi la subito tutta Madonna è pieno di gente Ok va bene Ho capito Capodanno a Napoli momento Mi allontano No niente Capitano a Napoli A momento Dove sei Ma mi torna indietro Che fastidio No Poldo C'ho dieci colpi E c'è gente Ma voi siete andati via Ma siete dei falliti Aspetta Aspetta Attento la Bertra Vai vai Flenca Flenca Mamma mia No Finiti i colpi No L'ho ammazzato L'ho croccato Mamma mia Codice sconto Xoderone Codice sconto Xoderone Lo lutto Lo linco Linka tutto No anche io voglio linkarlo Ok ho un'arma Credo Credo Ok Non ho colpi Non ho colpi di niente Aiuto Salvatemi Vi supplico Datemi un'arma Io ho una pistola Come la metto via Smettila di fare beatbox Non è il momento Io non ho munizioni per nulla E neanch'io Ho bisogno di colpi Di qualunque cosa Basta fare beatbox Qua c'è un'arma Un Tommy Lo prendo Oh Cristo i miei occhi Ah ma si fa beatbox Con G Ma perché lagga così tanto Questo giuoco Colpi Colpi No cos'è Una granata È una granata No È un lanciarazzi Senza colpi Vieni vieni Ah si l'ho lasciato io Ah Che cazzo fai Scusami tanto Amo Amo No ma tu non hai capito Praticamente con G Puoi inclinare l'arma Ma inizia a fare beatbox Eh si perché è la modalità gangsta Ma è fenomenale Vediamo se lo faccio con la pistola Ma questo Questa è una K Questa è una K47 È l'arma di Call of Duty No vabbè No è incredibile Il famoso gioco di pistone Sì però se mi torno un'altra volta indietro Dannazione Mi infastidisco Ti dai Dici Perbacco Perché lagga così tanto questo giuoco Magari devo riavviarlo Ma lagga solo a te Ma ma Non so perché Ma la live va tutta a posto Vediamo se magari sta scherzo Io posseggo il timore che ci sia della gente No non volevo farlo Non volevo farlo davvero Cioè Ci sono persone qui Raggiungiamo il nostro amico Morphpanda Aspetta Io ho bisogno delle Delle medikit del cura Si possono anche mettere le cose sull'arma Ma è incredibile Aspetta È Fortnite Devo curarmi Ma li fanno i Twitch Rivals di questo Dovrete Non riesco a muovermi È fastidiosissimo Ok devo prendere quelle munizioni Slug Io adesso Tu non hai capito che c'è lo sniper Cioè io sono il pro player forte di questo Mi hanno sparato Ah te? No No? Ah No dietro dietro Poldo Non sto capendo niente Indietreggia indietreggia Sono nel gas No il gas nervino Mi ha ammazzato uno No No Mori porco Dio Sono morto Salvami Madonna calmo Ok Scusate io e noi Ah no no Poldo anche tu Sì sono stato croccato Ma gliene ho croccato uno Mi chiamo Morphpanda Sei fortissimo Morphpanda è un CS player Madonna È un vero È un vero gamer incredibile Tiratemi su ve prego Sennò mi casca il pene Mi ha tirato su Madonna sono vivo anch'io Madonna Morphpanda ti toccherà il cazzo Davvero Ah è qua è qua È qua è qua Morto È andato via È andato nell'inverspazio Poldo non sto capendo Crepa Terrone No No Non dirlo Ma è morto Non ho capito Ma è un mio teammate Salvo io Morphpanda Ti salvo io Ho salvato Morphpanda Sono utile Sono utile Arriva una macchina Io non so cosa sta succedendo Io prendo tutto Io prendo tutto Ma neanch'io so che cazzo sto facendo Da dove arriva sta macchina Io non capisco La peggio merda Minchia c'è un bar Io voglio il bar Che cazzo Boh io ho preso qualsiasi cosa possibile Bigambo C'è anche il taser Ma come si mettono le cose sopra Ah così Ma che cazzo ho fatto Cos'è Cos'è Non volevo No Ti prego Bertra È molto confusionario questo gioco Mi sta Puoi smetterla per favore Ma mi torna indietro Common storm Cos'è il gauss bow No Troppo noi Ma non penso che possa Perché non c'ho Non c'ho le cose A me sarebbero munizioni Per il mio coltello Oh qualcuno ha tirato una frag Oh Oh Nemici Davanti a noi E vabbè ma mi teletrasporto ovunque Che fastidio No vabbè Incredibile sto gioco Cioè Sparare in sto gioco È più o meno come cercare di Di mettere la cintura di sicurezza Dietro a Napoli Bella questa Ti è piaciuta? Mandala a sesso Che pastrizia No Non dire così Cioè Incredibile Come ci si craccia su questo gioco? A me lo chiedi Ho un'ascia Poldo Ho una cazzo di Oh mio dio Mi è caduto un pezzo di ghiaccio vicino Che ho fatto io? Morf panda Morf panda No Era incredibile sto gioco Cioè Aspetta Aspetta Poldo Non si capisce un cazzo Cos'è sto gioco? Aiuto Vedo gente Ah Madonna L'ho mandato a terra Madonna Sono fortissimo Madonna Ok Devo mettere questo mirino qua No vabbè Ho usato lo sniper Cioè tu non hai capito Altro che Warzone Ma raga Ma chi è che vuole giocare a Warzone Quando esiste Total Accurate Non mi ricordo più come si chiama Arrivo BEMTRA C'è qualcuno in macchina qui Oh merda No no Si sta chiudendo L'ho ucciso Madonna sono fortissimo Si sta chiudendo BEMTRA Si chiude il muro Oh no si chiude E io dopo riavvio il gioco Perché mi torno indietro No non dire così Poldo Abbiamo grosse possibilità di vincere Pusho Checco momento Tiro la fumogena La framogena Ma che cos'è Ah la fumogena Questo invece C'è gente sotto eh Vicino al muro Come si usa Va bene Non lo faccio Ragazzi Scappa Oddio il muro Si tocca ti scopa Mi sa No Morphpanda Morphpanda no È stato mangiato È stato mangiato Non è stato un vero Fortnite player Non lo so Ma Vai via dal muro Mi hanno accoppato Il gaming Madonna gli ho scoppato la famiglia Quattro volte Non sto capendo niente Poldo non devi capire Madonna Sono fortissimo Poldo mi sparano Croccalo 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 Sono io quello Dove sei? Cosa fai? Perché? Sono morto Sono a terra Sono pazzo Sono fottuto Madonna Sono fortissimo Sto gioco Dove sei? Quanta gente c'è? Cinque Vai Bertra Io credo in te Effettua il gaming Effettua il gaming Ma ha pure quittato Quel fallito infame Di Sandro Si chiama Morphpanda Siamo uno vi uno Poldo Poldo Madonna raga Vai Ben tra Effettua il gaming Te lo dico Lo sto effettuando Effettua il gaming Vai Madonna Non imbrocca un colpo Non lo so No 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 Non lo sto effettuando Non lo effettuò Il gaming Non venne effettuato Niente gaming Oggi ragazzi Mi dispiace Mi dispiace abbastanza Niente gaming Oggi Ci siamo quasi riusciti Peccato 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 Io riavvio il gioco Perché mi sta laggando Quindi provo a chiudere Quindi provo a chiuderlo Mamma mia Mamma mia Tu sei un pazzo Invitiamo Ben tra Arrivo ringrazio per le sub Allora devo ringrazio per le sub Fantabotte Grazie per il sesto mese Asdrubal e benvenuto Punto esclamativo telegram Per il gruppo telegram E grazie mille anche a Chad Polodo Ti voglio bene Per il settimo mese Ciao ragazzi Bentornati Come state? Spero Spero siate felici Comunque da questo live Ci tireremo fuori un video Per youtube Quindi mi raccomando Andatelo a vedere poi Continuiamo Col gaming Ciao BAM3 Eccomi Il gaming Potrebbe venire effettuato Aspetta che c'è Pepsi Che mi sta rompendo i coglioni Aspetta che gli insegno Come funziona Nella mia campagna Non effettuare il gaming Per favore Angela Quando viene a farmi un po' i piedi Che mi fa male il gallo Madonna io Io ho fatto una combo No mi ha Sono stato disconnesso Ah pensavo che l'ho stato Buttato fuori per bullismo Ok Play Effettivamente prima per vincere Avete dovuto fare Scala muro pavimento Ci sono i miei Maggio sbagliato Denome il mod Grazie per i bit Liberty Denome il mod Tanto grazie per i bit Anche a Sara E Liberty Grazie di guarda ragazzi Sì effettivamente è vero Allora Bertra In questo momento Io ho gli occhialini da gaming Ok quindi vinciamo Questo vuol dire che ho circa 120 fps in più Ok Va bene dove scendiamo All'area 69 Scendi a pinna con i pendenti No vabbè scendiamo All'area 69 Lo mavo a far ridere Perché 69 No no 69 è brutto Comunque 64 Buttiamoci A Circle Town Andiamo a Circle Town Allora Andiamo a Circle Town Uiii No mi son tirato basso Poldo Non ci arriverò mai nella vita Non ti preoccupare Corri Corri E sopra terra Non si alza più Sto decerebrato Ma è difficilissimo Rialzarsi Ok sto correndo Corri verso la casa Ok sono nella casa Sono nella casa Madonna Sono nella casa Tu sei il benvenuto Nella casa Ha preso l'arma Ha preso l'arma Il pezzo di merda Ha preso l'arma Aiuto Bertra Aiuto Ciao Bertra Menalo Piedeva pugni Piedeva pugni Crocca il pezzo di merda Croccalo Coglione Ma non è più qua Fallito del cazzo No è entrato Ha un'arma Ha un'arma Disarmalo Non ha le munizioni Fermo fermo È scappato No ce le ha Ce le ha Poldo no Ma fa il culo Dannazione Non le armi nelle risse a Napoli Ciao Cre Ah mi sta resurvando Cre sei un king Mi ha resurvato Ma che cos'è quest'arma Poldo Non lo so Aspetta arrivo Fammi prendere un'arma Sono pieno di munizioni Ma non ho armi Fa vedere Dimmi quando ci sei Ci sono Ma che cos'è E allora È bellissimo È un cannoncino Oh Trovo un Tommy Una revolver È una beretta Hai bisogno di curarti Poldo Sì sì Come si fa in questo gioco Vedi le cose In basso a sinistra Hai le bende E il medikit No vabbè No vabbè Ma è come Fortnite Ma c'è lo slug qui Così per fare Chug slug Hai capito Madonna E cantare No vabbè Ma c'è lo scooter Sali Ben tra Niente casco Mi raccomando Madonna Che fermo Andiamo a girare Per secondi Gian Giro per secondi Gian Mamma mia Che tarantella Bertre Mamma mia Che tarantella Andiamo Oh me bell Oh me bell Sì scusami Sei nervosito Crea Andiamo Vabbè scusa Crea Non ti incazzare Ma 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 I am Alive Ma I am Alive Ci ha croccato Perché stavamo Cazzeggiando Ci ha dato Un Ci ha detto Basta Cazzeggiare Ma ho perso le armi Qua la tua mia Tai qua Grazie Grazie È stato il massimo Betrayal Io sono veramente Un peso Madonna Va bene In questo momento Ho molta paura di lui Quindi credo che Seguirò ogni suo ordine È diventato Il nostro dio Ci ha beccato La finanza E ci ha Ci ha fermato Ci ha beccato La finanza American Sniper No cosa fai Ma non sono stato Io Stai fermo Cretino Io non posso Giocare in queste Condizioni Stai buono Eh Babababopi Non t'azzardare Non fare Avete band Eh no Le ho finite No Di nuovo Ma che problemi Ha questo tizio Non lo so Come si scrive And ran me over No I'm sorry I'm a new player Porca droia Cazzo di camorristi Di merda Ma ho ucciso Vabbè Facciamo un'altra partita Che questo qua Mi ha Fermo Fermo Dottor Dottor Rinasci Gli scendiamo in testa Lo ammazziamo No vabbè Mi piace come ragioni La camorrista Andiamo Madonna Gli facciamo il drive by Col motorino Guarda Guarda Pro gaming Camorra Momento Madonna Madonna Ho vinto fortissimo Il battle royale De fortnite 3.0 No vabbè Sono troppo bravo Madonna Sono fortissimo Madonna Mamma mia Io sono Io sono spawnato Cioè io penso di poter spawnare normalmente Perché sono troppo forte Ho fatto due punti anch'io Io sono al 3 Eh no Il 3 Sono morto Niente 3 per me Vai andiamo da crea Andiamo ad sto pezzo di merda Madonna Andiamo a fargli vedere come funziona la camorra Voglio Eh Non atterrargli subito vicinissimo Che dobbiamo prendere le armi Andiamo qua Ben tra Bene Com'è che si pinga Scusa Boh Ah C'è qualcuno da me Oh porca troia Da me stanno fightando Gli sono caduto in faccia Sto perdendo già vita No No Ti prego Ben tra Dai Che dannato camorrista sei Ma come hai fatto Mi stanno toccando il cazzo Mi stanno toccando il prepunto Arrivo Bertra Ti proteggo io Ok non me l'hanno toccato abbastanza bene Oh cazzo Come si seleziona un'arma Sono napoletano Con qua l'accento Arrivo arrivo Madonna Poldo si stanno scopando vicendevolmente Dove sei? Ah sei qua Ciao Bertra Ciao Poldo Dove stanno? Lasciate il vichingo Non lo so Non ne ho idea Ho lasciato il vichingo però Ma gli tocco il prepuzzi Aspetta che qua sto effettuando il gaming L'ho visto L'ho visto Aspetta che gli tiro un colpo tra capo e collo Che non si rialza più Ah Ce l'ho davanti ma non so sparare Poldo No ce li ho ovunque Davanti Dietro A destra A sinistra Gaetana Hittato Hittato No mi ha buttato a terra Mi ha riso Niente No Vaffanculo Ah Dannazione Siamo dei pessimi camorristi Bertra Siamo caduti proprio nella camorra Hai risvegliato l'antica legna Ciao Tsukumo Grazie per il dodicesimo mese Porca troia Grazie di cuore A me Leftiamo Bertra? Eh sì Leftiamo Sono tornato Ienum Ok Ci sei ancora il team con me? Eh sì Dai stanno andando bene però le partite La prima è andata molto bene Non mi fa quittare Non mi fa quittare Perché non mi fa quittare? Te lo meriti Ok Però già vedi Gli occhialini da gaming Un po' ci hanno aiutato Non è vero Io non ho fatto un cazzo Quel fallito dell'alleato Vabbè io sì Sono ammazzato Sei uscito? No non mi fa Mi fa Però non sei professionale Uno deve fare una live E tu fai così Impara a essere più Professionale Ma vaffanculo Molta F4 E lo riaccendo Ok Vaffanculo Ma che gioco di merda Bellissimo volevo dire Fanni il momento Porca di una troia Tu sei Pammare Ma ma puoi cambiare la voce Eh sì Però non capisco perché Non me la tiene in gioco Dai Dai Eh non lo so Fratmo Eh aspetta 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 Ma dove Ma no Ma mi ha messo il gioco Nello schermo Nello schermo in verticale No Please Please Si No Alberto Ripeto Non sei professionale Please 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 Be Dai Me l'ha messo nello schermo Please Be Aiuto Eh ma cambia schermo e riavvia il gioco C'è scritto Lo sto facendo ma non riesco a premere i dust No vabbè io sono in training Aspetta che faccio come su csq e provo le armi No sei troppo tu No sei troppo tu Sei troppo tu Ok perfetto Ho vinto tutto Sto facendo un casino Oh mio dio che paura No non sborrare però Non c'è Non c'è No poldo me lo mette sul schermo Me lo mette sullo schermo in verticale Ok Lo fa cambiare Togli il full screen Mettilo sullo schermo normale E poi riavvia il gioco No vabbè troppo noi È incredibile Io intanto mi faccio un giro per secondiglianne Con la mia moticicletta Ma si può impennare sto gioco? No ma non va in acqua la moto No poldo se lo metto lì non ci credo Non ci credo Ok forse ce l'abbiamo fatta Ce l'hai fatta? Forse Però devi riavviare il gioco C'è scritto per cambiare da un display all'altro E ma se poi adesso lo spengo Allora senti io ti sto dando una mano Questo atteggiamento passivo-aggressivo Nei miei confronti non ti porterà a niente No zio con te solo passivo Niente aggressivo Scusa non volevo dire l'altra voce Fra Fra ho rotto il gioco Cioè è incredibile Emlo Ho rotto il gioco Emlo Emlo C'è qualcuno? Cosa succede poldo? Eh no Adesso Mi si è aperto sullo schermo giusto Però non full screen E No però è incredibile Pepega Pepega indeed Cioè non ci credo Adesso è in 1080x1920 E non posso premere le impostazioni Meglio Non ti preoccupare È un'esperienza migliore secondo me Non ti preoccupare Aiuto Polto Ma posso cam... Ti prego Tu come hai fatto a customizzare il personaggio? Ti prego Ti prego Non in verticale Non in verticale Ma perché Pensa di essere Ma No vabbè Ma io Io sono potentissimo Mi sto personalizzando Polto Non posso cambiare nulla No Cioè io sono distrutto Da sta cosa Posso cambiare nulla della maglietta Io mi vesto azzurro Napoli Sei bravissimo Grazie No questo non è azzurro Napoli Questo è azzurro Napoli Cioè non ci sto... Non ci credo Io non sto riuscendo a... Cappellino del Napoli Adesso vi faccio vedere cosa vedo io Se funziona Vediamo Che è stupendo tutto Cappello del Napoli Mamma mia Cappello del Napoli Tesorio Il cappello del Napoli Sono un giocatore del Napoli Non ci credo Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Posso mettere il pappagallo? No sì Il cazzagallo Ripeto Eh dimmi Non mi sono dimenticato Ti posso invitare? Sì puoi Ecco fatto Sembra uno sbirro Elettro scimmia Sa come hai potuto Tette rugose Ano Aspe non è gug No Sembra uno sbirro Sono pazzo Sono pazzo Sono fottuto Sono pazzo Sono fottuto Ciao Sasso Grazie per il terzo mese Bentornato amico mio Possiamo andare Ben tra? Vai vai Sto aspettando te Vai Allora mi raccomando Occhialini da gaming Per una perfetta esperienza sessuale Da gaming Ah sì? Non è vero Noi gamer non facciamo sesso Ogni volta che fai sesso Perdi un po' di mira Allora Bertretti Direi di adottare una tecnica qua Vai stupiscimi Prendiamo una macchina E giriamo ovunque No Cioè sei troppo noi Vai andiamo Madonna ma sei uno sbirro davvero Poldo Ma perché mi tratti male? Ma a me dice Intanto io mi cambio Non voglio più essere piccol ricco Ah no aspetta però A te non sta entrando in partita No E infatti perché io non sono con te Ah no invece sì sono con te Ok faccio play Madonna Poldo Adesso divento anche io Uno sbirro infame Aspetta Tolgo l'auto team Così entriamo Non lo so Ok E giochiamo in due E prendiamo una macchinina Madonna Poldo Sono uno sbirro Guardami Pure tu sei uno sbirro Eh beh io sto cercando Il match da un quarto d'ora Però non lo trova Che fastidio questo gioco Io ho messo play No non dovevi Perché no? Aspetta fai cancel Eh non sto facendo niente Giuro Mi sa che devo riavviare il gioco Perché mi si è rincoglionito No No Riavviare io Ora me lo mette sul Sul cellulare Non fare così Ti prego Ora me lo mette nel display Del frigorifero in cucina Vediamo Madonna Me lo mette nel test di maternità Che ho fatto stamattina No Sei padre? Madre? Quello che sei? No Nova ha scritto giocone Ma tu sei un giocarellone A me non l'ha scritto Sto fallito di merda Scusa ciao Nova Tiamo Stasera c'ho il fallito Facilissimo Sappiatelo Ti ho invitato Bentra Madonna No ma pure tu sei uno sbirro No ma tu sei più militare No no Io sono più sbirro Io sono tra metà da uno sbirro E un fan del Napoli Dell'SC Napoli E come funziona? Non possono essere la stessa cosa Poldo No Grazie Nova Nova è venuto a scriverlo Perché si è sentito in colpa Ma invece No non l'aveva sentito Invece di scrivere Il giocone Poldo Nova Rispondimi su Telegram Se no ti tocco il cazzo Te lo dico Ti tocco proprio il cazzo Fino Così Vieni a giocare anche tu A Pata Vieni Nova Vieni a giocare con noi Ci serve un tre Dai giochiamo in tre Giochiamo in tre Giochiamo in tre È quello che dico sempre Bert la premi G con un'arma in mano Aurelius Sei nel canale sbagliato Grazie Ma scusate Madonna Ma sta gente che viene A toccarmi il prepuzio I napoletani sborri Aspetta che c'è C'è un fan del Napoli Che mi ha salutato No sei scomparso Vabbè Capita spesso Dove sei Bert la Io sono al centro Dove ci sono i container Ho cambiato musica Dove sei? Ma tu sei in partita con me? Penso di sì Sì siamo insieme Allora io sono al centro Dove ci sono dei container C'è uno sbirro là sotto Che fa il bullo Aspetta io sono a Circle Town Tu dove sei? No io Ah no io sono in un'altra città Arrivo Arrivo a Circle Town Ci vediamo a Circle Town Compa No è partita E invece in culo Allora mi raccomando Mi raccomando Droppiamo bene Droppiamo in un posto Dove ci potrebbero essere Delle macchine Quindi sulla strada magari Qua Qua vai ci sto Quando vuoi Andiamo Nova vieni immediatamente Su 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 Tubs Nova vieni immediatamente Non farti domande Sbore Nova vieni Io vado sulla casa Quella grossa No Cerca la macchina Aberta cerca la macchina Le armi sono super Scappa scappa Ben tra C'è una moto Ti vengo a prendere Ma ci sono i porta Forza Mi spavano Mi spavano Mi spavano Sono pazzo Sono pazzo Fuga da Napoli Fuga da Napoli Ho uno di vita Scappa scappa No mi sto toccando il cazzo Arrivo 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 Bertra Ti salvo Sali 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 Gli hai rubato la borsa No C'è un'auto No 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 sono svenuto Sono svenuto Poldo Cazzo C'è l'auto C'è l'auto Via 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 Fammi salire Ci siamo Sono nel retro Momento Napoli Non guardare dietro Guardi in avanti Ecco hai croccato un albero Hai croccato un albero Madonna sono fortissimo Andiamo a croccare Ma tu hai il casco Io non ho Madonna quanto è veloce Prendi Ce n'è un'altra Poldo Prendila anche tu Dov'è portami alla macchina Dove andiamo noi non ci servono Strade Vai qua vai Vado 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 Prendi Prendiamo anche un'arma Aspetta vado un attimo in casa e la prendo Madonna il Napoli momento questo Ti ho perso Bertra dove sei Sono nella casa Sono nella casa Poldo no vieni qua Bisogna prendere almeno un'arma Se no ci scomano Arriva arriva aspetta Ma non serve il casco in macchina Ma non ci sono Non ci sono auto Cioè non ci sono armi Vaffanculo Solo auto Only car Only car Only fans Only fans Rimangono soli i ventilatori Una bicicletta Oh mio Dio Bruvotti Momento E allora Cosa volevi fare Aiuto Siamo allo zen Ci inseguono Io sto facendo un servizio giornalistico Smettetela No mi sono incastriato Noi combattiamo la camorra Noi non siamo la polizia Non mi alzi le mani Lei non mi può toccare Lei non mi può toccare Mi sto perdendo del vero gaming Non posso fare nulla Ma io in moto In bicicletta vado più veloce della macchina È normale questa cosa Non lo so Non ho idea Ho trovato Stavo vomitando Ho trovato un uzi Perché sto disbocando Non lo so Mi è venuto un cognato Ma sono fortissimo in retromarcia In retromarcia con la bici è incredibile Ci sono un orologio a prendere Covid No Bertra ma tu puoi salire nel cestino della mia macchina Ti stanno sparando comunque Ma io sono in caso C'è un tizio C'è un tizio Ma c'è uno con l'auto Che fa bipo Scappa scappa Bertra Scappa dallo zen Scappa dallo zen No io combatto Combatto Io ho uno di vita Bertra Ti guarderò da lontano Ma dove sei? Non ti vedo Oh ti vedo Oddio c'è un intero cazzo di team Vaffanculo col cazzo che fai tu io Ritirata strategica Porca troia Ti vengo a prendere C'è un tizio in bici con una mini uzi Sono io Abbombazza Abbombazza Amici di striscia Amici di striscia Amici di striscia Amici di striscia con l'iluzzi Sono io Vieni vieni Bertra Sali sali Sono qui Aspetta devo fare il Vieni 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 Bertra sono sotto di te Scendi Ma non vengo su quella merda di bici Ma perché? Andiamo Ma sei sul mio cestino A bombazza Via cameraman Andiamo via dal quartiere più malfamato di Palermo Guarda l'abusivismo edilizio Guarda queste case Guarda queste case costruite illegalmente che poi franano Avete Vorrei spararti in bocca perché sei incapace No Amici di striscia Ma che cazzo C'ho la palestra che scocca Andiamo a trovare qualcuno Sì Ok Che fatica in salita Ah Benvenuti in un paesino in Trentino Alto Adige Qui troviamo i migliori I migliori C'è qualcosa Sento qualcosa No non dire così Cos'è? Una moto C'è un'auto Sali nella moto Sali nella moto veloce Sali Fermo Madonna mo la faccio esplodere Gli compio l'esplosione Dove sta? E' qua davanti Eh Gli hai fatto esplodere wow Dove sono i proprietari di quest'auto? Ciao Non si salutano il mio ghetto Doveva identificarsi prima Mi dispiace Napoli funziona così Sali nella moto dell'Sc Napoli Nella nave Nella nave Non mi fa salire Ok ce l'ho fatta No non è vero Ok ora ci sono Io non ho il casco Però tu ce l'hai Ah bombazza amici di striscia Ah non è più la bici Giusto Non siamo più brimotti Chi è che ha sparato? Tu? Ora siamo Ciro e Pasquale No Maron Gaidana Ma tu stai andando fuori dalla safe zone Poldo la safe zone Poldo Che schiddata che ho buttato Poldo la safe Corri, corri, corri Guarda la mappa Vai qui Non lo vedo Dove, dove? Ok Vado, vado, vado Il ping Ma come parli? Ah Oddio c'è c'è Gula sorta E' un gula sorta di nuovo Pepino di nuovo Pepino Scendiamo, scendiamo La moto non è fatta No, sono svenuto Ok Entra in una casa bentra Entriamo qua Munizioni Munizioni Ho bisogno di colpi medi La madonnina nera di tindari Ah io un medikit Non ho vita Piglia il medikit Piglia il medikit E qua, qua, qua Curiamoci Mi sdraio nel letto Poldo Non mi toccare Mi raccomando Io cago nel cesso No Sei un gran male educato Fatelo dire Mi sono cagato addosso Non ci posso fare niente Mi dispiace E' atterrato qualcuno E' atterrato qualcuno A Fortniteville qua Fortnite Eh chi è? Non lo so Mamma mia Comunque è veramente Napoli questa Cioè sparare le macchine così dalle finestre Cazzo Napoli simulazione Dai Nova Vieni a giocare Premi G Ah si giusto Ah Poldo Vieni a sentire la mia canzone L'ho cambiata Non è più quella beatbox Fa sentire E vabbè Italia Spegni la musica C'è gente A meno che non metti musica Che fa tipo Quando me so innamorato Aspetta aspetta La metto subito Scusa Non volevo Dammi un consiglio Oh una k Una k Incredibile È d'oro È lo scar d'oro Cos'è che è esploso Per Dio Che è successo Mettiamo un nata volta al remix No 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 C'è gente L'ho hittato L'ho hittato Vai push a giro Steccalo steccalo No no mi hanno messo giù Aiuto boldo nooo Aspetta aspetta Ne ho croccati due Dove sei? Qui 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 Tiravi su Tiravi su Scappa Scappa Sono morti diretti È pieno di roba Vieni vieni Madonna troppo noi Gaetano No vabbè Gaetà No vabbè L'MP40 Le granite Le granite Le granite Ma la sei Sta arrivando cristo Scappa No 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 Sta arrivando cristo Boldo boldo Scappa 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 dritto Come faccio Scappare dritto Smettila di fare beatbox No no Seguimi bentra Smettila di cantare No Chi è? Dove? Dove? No Cosa succede? Non ho più munizioni No No Ho finito le munizioni Nino Ho finito le munizioni Nino Anche oggi Una sconfitta per Napoli Anche oggi Una sconfitta per Napoli Madonna Se no sei stato molto bravi F No ma vieni a giocare Ti prego Abbiamo bisogno di quello forte C'è Aspetta che chiudo la finestra Certo Ma vabbè è bello Evangelion No Evangelion Troppo noi Sta cazzo di finestra Un italiano picchialo Dov'è? Ma chi sei? Ma dove ti trovo Poldo? Dove sei? Allora io sono a Chaos Io sono a Circle Town Arrivo Arrivo da te Poldo Ti aspetto Vieni mi incontro Arrivo Ok questa partita proverò senza gli occhialini da gaming Per vedere Per vedere Dove sei? Non ti trovo Ti vedo C'è un tizio che mi insegue Urlando sus Ok Allora Droppiamo ai quartieri spagnoli Bertra Quindi in Finlandia Ok andiamo in Finlandia Andiamo in Finlandia Mi piace Sarà veramente difficile Oh no Oh no l'ho tirato a corto Ho tirato corto Poldo Ma devi guardare in alto Ma che gamer sei? Ma ho guardato in alto Ma non solo non abbastanza Ho trovato una moto Malonna Anch'io sono al castello Bertra Aia Woohoo Agge la moto Dotto Aia si è rotta la moto No Un piaggio Si è rotto un piaggio Come si è rotto un piaggio Aiuto Bertra Fammi salire Bertra Sono qua Dietro di te Fai vieni qua Fermo 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 Ci sono Scappa Ciro Scappa Ciro Un italiano Investilo Scappa Scappa Investiamo Ciro No Ciro So Aron Vabbè me ne vado Vai vai via Vai via Ok nuova per la prossima c'è Quindi dopo lo facciamo entrare Incredibile Vai vai Guardieri spagnoli Bertra Prendiamo un'arma Difficilissimo guidare Per dio Per dio La BG Hai distrutto la Brum Ottimo Bill Ah c'era un'arma C'era un'arma C'era un'arma Basically Finland Non c'è l'arma Non c'è No era solo munizioni Qui c'è un'arma Oh Oh C'è gente C'è gente C'è gente Dove 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 Qui Dove No 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 Gli abitanti della Finlandia Sapevo che non dovevamo disturbarli Aia Non ho munizioni Io scappo Bertra Perché non ho munizie Ma è pieno di gente in Finlandia Non ho niente Non ho un'arma Non ho un'arma Sono pazzo Sono pazzo Sono pazzo A fallito Ne ho croccato uno Ne ho croccato uno Eh io sono morto Poldo Poldo Sono vivo No ti ho resubbato Mi hai resubbato? Sì Madonna L'ho riempito di schiaffi Poldo C'è ma ti giuro C'è gente C'è altra gente No no Lo so Non ho cure Io sì Occhio Arrivo arrivo Mi curo Mi curo Mi curo Bravo Bravo No 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 C'è tanto te Non volevo Poldo Scusami No vabbè Non ti preoccupare Può capitare Ma c'è un tizio C'è un tizio È un amico Ah ok Sborro Uccidilo Abbeto sborro Ammazzalo Perfetto Spianti delle cule Ah No 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 La sborra Poldo La sborra Eh comunque Interessante Sto nuovo warzone No No Dannazione Questi giochi Eh perché Non abbiamo avuto Gli occhini Da gaming Comunque La Finlandia È peggio Dei quartieri Spagnoli No no La Finlandia Era incomprensibile Ah giusto Possiamo resubbare Ma sei uscito Eh no Io sì Sono uscito Devo Devo invitare Nova però Eh vabbè Ma Potevamo resuscitare C'era il gula Che scemo Ah fuck Ah ecco Nova Invitato Nova sei anche in chat Ecco fatto E dobbiamo far entrare su discord Nova siamo sul mio server discord se vuoi Ho applicato troppo lollaggio in questa partita Mi fanno notare in chat Effettivamente potrebbero avere ragione Cosa hai applicato? Eh ho applicato troppo lollaggio Dovevamo essere un po' più gamer Meno lollaggio Dobbiamo essere più gamer? Dici che dobbiamo essere più gamer? Va bene Allora applichiamo il gaming alla serata Secondo me Dobbiamo applicare molto più gaming Va bene Applichiamo il gaming Quello serio però eh Sì Da cui c'è bisogno di Una Un'importante ricerca del gaming Eh ma Ma il carissimo Nova Nova Non ti hai fatto sentire Nova Ci sei? Nova 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 Novax Nova 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 caduta ragazzi è caduta ragazzi capito e forse molto ciao cosa tu sgravato bentornato grazie per il quinto bentornato caro nova di che non si è un vtuber no assolutamente no è una vtuber dove c'è la rana con le bocce di fuori ok ho messo gli occhialini da gaming in questo momento gli fps sono aumentati no sei troppo pazzo avete già vinto in sto gioco sono arrivato secondo prima e l'ho preso il cazzo enorme no dove andiamo andiamo a a castello di sabbia come ti caccia fuori nova 19 29 cos'era questo via un po troppa gente qui ho una granata no ma ma tu sei troppato molto lontano comunque io sono con un team arrivo da voi mi sparano l'ho croccato l'ho croccato ma era ma era coreano questo va bene come coreano ho bisogno di demolizioni per il mio coltello aspetta fammi ricaricare aiuto dove è quello che ti tocca e la mano non carica non carica che fastidio che fastidio madonna l'ho ucciso bravo 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 ad asciare scusate a ad asciare che vuol dire questa è la presa doppio doppio sblob un altro sborolo lo calchiamo perfetto 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 bre di tutto bre di tutto salve ciao no vanno promoti a croccalo scuso troppe come faccio così ma di che te grazie quante persone si è una cappa quante persone ci stanno dentro una bici due ovviamente epic dash sbloccato capa capire non che abbiamo unato questa zona ti è piaciuto il termine o un altro ma si vede che è sempre lo game era scusa e si allora sono un'altra volta quel clacson ma perché c'è una browning come il pop quando toglie fra c'è la minigun qualcuno vuol prendere la browning qua ma ce l'ho io guarda ce l'ho già con tanto di colpi ma questo che è un tipo un cecchino questo la browning chi chi è 9 9 9 che fa che fa le prove qua c'è un p90 ma in che senso si passa da cannoni a p90 vabbè pensa browning browning si può andare in tre in bici pensi sì dai proviamo sono me fine in quattro dov'è la bici ho messo un due per sulla minigun ho messo un due per sulla minigun non puoi no dai non è vero l'ho appena fatto opzioni comandi ora nuova come tra yarda prego sali ben tra mi lasciate adesso ma porco due fermi ma io ho appena nuova applica troppo gaming per i nostri gusti noi applichiamo la giusta la giusta dose sia di lollaggio che di gaming allora ragazzi se non salire mi sto nervosendo ok vai ma cos'è sta roba ma non vedo nulla in questo ma è un libro di spell e poi è una minigun giusto ma questo è un coso che tipo posso pigiare aia guardate cosa ha costruito qui la camorra abusivamente la camorra non ha fatto nulla ah perfetto ragazzi abbiamo il mago è un brumottrio ti è piaciuta questa capito madonna sei veramente simpaticissimo poldo scopami tutto ma no ma non c'è Bertro sì è davanti come non c'è Bertro no è davanti sono davanti fermo 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 mi fai male vuoi salire vuoi salire da la bici ho 3 HP eh non posso no ce l'ho fatto no no si vai 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 ok io ho la minigun facciamo i drive vai con la minigun perfetto anche io ho una minigun certo non posso mirare però non puoi girare la minigun come un gangster chi è che spara andiamo 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 là famo ieri gaming famo ieri gaming andiamo 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 vai gamer ma dove sono oh vai ci divanti sei volito vai distrutto no sei scindato sei scindato pucia pucia non pucia fermi brumotti da guerra ce ne vanno qua vai vai no vai l'ho distrutto l'ho distrutto e ripuscia 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 è morto posto l'altro pucia l'altro pucia l'altro pucia l'altro dove è dove è sali per 3 sali vai vai aspetta di prendere le robe sue aspetta aspetta vado a finirlo vieni 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 no non ho colpi non ho colpi no vai devo usare il libro magico no no fermo aia aia me non scopano mi scopano mi scopano non posso ucciderlo non ho colpi aiuto ragazzi troppo gaming male sta venendo effettuato è uscita la mappa il tipo niente aspetta perché c'è la bici in fiamma sopra 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 sta volando aia mi hanno esploso aiuto aiuto ehi mi hanno croccato come hai fatto non sono un vero power fnatic fermi aia aia no no mi stanno dando il gaming non lo voglio il gaming aiuto no va salvaci salvaci arrivo arrivo no il gaming possiamo provare a respawnare amici vai respawniamo vai 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 forchessimo il primo livello 1 superato senza problemi no vabbè anche il livello 2 sono fortissimissimo e pure io il 2 ma non faccio è impossibile no 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 io ce l'ho fatta ce l'ho fatta si è fortissimo cazzo sono un gamer sono un gamer ragazzi niente droppiamoci droppiamo a small power vai bravo 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 aia aia ma no mi sono schiantato su una torre si può dire vabbè si può alzare sto coso no non ti sei schiantato su nessuna torre non era per quello mi è cresciuto il gioco te lo meriti non sei un vero gamer non c'hai neanche aiutato ho trovato di nuovo la cappa io ho trovato un cazzo quindi è una k93 perché è il secondo che trovo c'è una macchina qua sotto ehi edsi io non c'ho niente non c'ho neanche la dignità di piangere no no non litigare te l'ho già dentro che non si litiga e vabbè ah arrivi eccoli salgono salgono minchia ho fatto un headshot incredibile propria che ho poche munizioni Bertra eh io non c'ho io ho una pistola li sto flancando poldo si li distraggo il mirino mio dio quanto occupa nello schermo eccoli li vedo li ho visti anch'io solo che non so come raggiungerli perché sono mio dio madonna sono fortissimi c'è qualcun altro Bertra non siamo soli non siamo soli Bertra no no mi sta leccando il cazzo eau madonna si vede che sono un rust player sparo con la k47 da 100 metri madonna sei bravissimo aiuto poldo no mi hanno morto dai ti raggiungo anche se non ho munizioni no mi hanno morto lo so raga che il mio braccio è lungo e sensuale però sono morto comunque questa cosa non va mica bene vai poldo io credo in te ballona quanto sei quanto sei forte ecco ho freddo le munizioni vai vai io credo in te guarda 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 cosa stai facendo guarda 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 c'è qualcuno andando via nel grano nel grano dorme sepolto in un campo di grano un tulipano che ti fa muore più ma quando muore ma tutti i proiettili non ho più i proiettili perfetto neanche lui ne aveva questo problema cazzo oh cazzo via la macchina vai città cittadina francese stile cosa no ah ok no che guidano bene ok scusa la 24 di Le Mans dove devo andare non lo so non lo so c'è gente l'hai visto l'hai visto investilo se hai le palle no non mi può colpire il cuore non mi può colpire non mi può colpire aspetta sono in safe zone non sono in safe zone oh 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 zitto 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 no 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 dai 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 no dai 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 Ce l'ho fatta Bicicletta Bicicletta momento Bicicletta Sì però non devo salire magari qui Ecco perfetto Ok Ok ho solo una pistola Incredibile Ho solo una pistola e tanta voglia di vincere Ho solo una pistola e la nazionalità napoletana Sono pronta a vincere Ho pure una bici Quello è un nemico Non mi hanno visto però Ok ho finito i proiettili Madonna mia Ma che violenza Ma cosa è successo a Napoli Da quando me ne sono andato Le asce ma da che mondo è mondo No ci sei o no Ci sono ci sono E' un gaming troppo intenso Bertha Mi sta facendo male la testa E' troppo intenso come gaming Dobbiamo avere ancora più gaming Forse ci vuole più l'ollaggio Diventa tutto l'hava alla fine Ma perché sei caduto Ma se anche tu sei caduto Per me tutti e due siete per terra Io vedo solo Berto per la terra Va bene ci sta Ok ho tolto gli occhieri da gaming Prima gli occhieri da gaming mi hanno fatto finire in finale Quindi potrebbe essere un fattore determinante Sesso Ho scritto sesso Fa ridere Sesso Oh si finalmente No cosa C'era Zorro davanti a me Mi ha scritto qualcosa Ma non ho capito No ho premuto V Ho premuto V Nell'acqua Che succede se premi V Ma ho glitchato Andiamo a Tollwork Andiamo Andiamo da Nova E dov'è Nova? No 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 Andate andate Vi raggiungo Andiamo Ci sta andando tutta la mappa Bertrand Chi se ne fotte No Vabbè Sei un pollo Sei un pollo Hai Noz Poldo c'è uno dietro di noi Poldo c'è uno dietro di noi Ora ci tocca il prepuzio No ce n'è uno anche davanti Poldo siamo vottuti No non ti preoccupare Io sono un gamer Ho una pistola Ho una pistola Ripeto La nazionalità napoletana Io ti lascio lì con la tua pistola Perché no non c'è Ma c'è tipo un buff Se sei napoletano Sì Eh sì certo 50% più più Io ho una munizione Non ho munizioni Non ho munizioni Non ho munizioni Dove sono? Arriva a salvarti Poldo Croccalo Croccalo Ammazza sto maledetto Poldo coreano bastardo No 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 Poldo Vabbè sì perché è coreano No Poldo no 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 Arrivo Ha un nome coreano Io ho detto maledetto coreano Ma che c'è di male No Poldo Smettila di parlare Non dire più nulla Fa bene No vabbè Troppo noi Siete vivi? Sì Immagino di sì Giusto Sì sì Donna ti scopo il cugino Laurica 3 No Come no Ti spagate la bici? Bibi 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 Ti sono Ti sono Ti sono Ti sono Ti sono Sono da te 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 No No Sì ce n'è uno No 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 mi tocca il prebuzio Arrivo Arrivo mi ci sto responando Arrivo 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 Se la lanciate io per errore Cos'è sta roba? Cos'è sta cosa? Oio, cos'è sta cosa? Ciao amici, aia! Sono caduto, aia! Cos'è che ha lanciato? Ma è morto, se l'ho ucciso! Ha funzionato! Mi spieghi cos'era questo incubo? No, no, però ci sono un po' di persone. Sono pazzo, sono pazzo, sono pazzo! Sono fottuto, ciao ragazzi. Oh, balestra, balestra! Ucciso, chi sei te? E che devo uccidere? È giusto? Sì! Ah, scusa! Aldo, tirami su! Aspetta, c'è gente! Ha sbagliato persona! Aspetta, mi cricami su! Lo sto facendo, un attimo! Aspetta! Oh! È il momento, per te! È questo, lancia la granata! L'ho craccato! È sempre quel maledetto coreano. L'ho cancellato! Ragazzi, sono intrappolato! Sono lanciato io per l'errore! No, vabbè! Ma hai accoppato, Bertrò! No, no, ma ha accoppato! No, ma ha accoppato! Ma hai chiuso un po' per errore! Aiuto, aiuto! Per errore! Bertrò, rice! Bertrò, rice! Vieni su! Chi è che sta sparando, per curiosità? Non lo so, gente dietro, non fa ti amare! Help, sto per morire! Ah, pure tu! Cinque di vita! Cinque di vita! Cinque di merda! Mamma mia, mamma mia! Gaming effettuato! Dunque, quella granata, Bertr, è tutta devastantissimo! Non so cos'era! Ma che cazzo hai fatto, infatti? Cioè, non lo so! Cos'è? Io sto effettuando il gaming, raga! L'M8! Madonna, sì! No, ma! Cos'è che serve sta cosa? Ma non rilanzare addosso a me! Ma perché li devi provare addosso a me? Ma che t'ho fatto? Ma cosa state facendo? Qui c'è una balestra, se volete! Arrivo, arrivo, arrivo! Arrivo, arrivo, arrivo! C'è un'arma davanti alla statua, comunque! Arrivo! Corro, corro, corro! Questa è vinta, è vinta, è vinta, è vinta! Proprio! Mosegno! Dobbiamo ritrovare quell'arma che ho lanciato prima! Era troppo devastante! Ok! Abbiamo rotto lo spazio a tempo, Voldo, prima! In qualche modo! Amici, io ho bisogno di munizioni! Per la mia pistola! Ce li ho, ce li ho io, tre passi, tre passi io! Ce li amo! Vieni, vieni! Vita ne hai? Ce l'hai per la capa? A me servono i colpi normali! Avete i colpi normali? Ho venuto per te la quelli che mi servono, questi qua! Controllate! Vai! E credo sia stato... Genti, genti, dietro! Ah no, era stato! No, questi sono i colpi muschetti! Era stato! Chi è che spara? Eh, credo che queste siano persone! Io non ho munizioni, quindi mi allontano! Sì, sono sopra comunque! Ah, munizioni! Mi servono delle munizioni normali! Aiuto, quelle verdi! Eh, io le ho appena trovate! Basta! No, va! Mi stai curati? Eh, curati Poldo! Eh, non so come! Guardi qua, guardi qua! Guardi qua, ti do le vende! Le cose! Aspetta, munizioni normali! Aspetta, munizioni! Grazie, manda! Vieni, va per terra! Grazie, grazie, grazie! Cavolo! Questa partita è il gaming, sta andando bene! Madonna! Dove sono? Poldo? Non lo so! Non lo so! Ho preso abilità Blessing e Common Storm! Cos'è? Non mi faccio a far funzionare! No, sono caduto! No, no, ho rotto il gioco! Andiamo in safe? Eh sì! Andiamo in safe! Dove, dove? Eh, andiamo in safe! Ho messo il ping! Run, run, run! Genta destra, genta destra! Svegliato la Napoli scimmia! Ma tu si provocazzi! E dobbiamo vincere qua, scusa, abbiamo vincito da un botto che non ci sarà, però! Categorica imperativa per tutti! No, 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 no! Viva l'amore, la gentilezza e le castagne! No, no, no! Divertirsi ed essere... No, vado a piedi! Come si fa a parlare con la voce? Tipo il... Y... C'è un'ova! Cos'è questa cassa volante? Ma che cazzo è? F! Cos'è questa roba? È un airdrop, penso, sai? Cos'è? Oddio! L'airdrop! L'airdrop! Pog! Io non c'è nulla! Ho preso una cosa! Ho un blessing! Ma? No, faccio... No, adesso devo sparare soltanto con il... Con questo! Faccio... Cos'è che faccio con questo? Faccio 50% di disegno in più! Arriva gente da dietro! O in fondo, in fondo, in fondo! Madonna! Oh, sparano, 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 sparano! Au, au, au! Un motorino, ragazzi! La coppa al motorino! Oh, a terra, a terra! Un ucciso, un ucciso, un ucciso, un ucciso! Pusha! Pusha, pusha! No! Mi hanno... Mi hanno... Sniperato, amici! Eh... Scoperto, corri! No, volto! È troppo perso! Per lasciarlo, bisogna fare una scelta! No, amici! E venga a prendere! E venga a prendere, Piri! No, ne abbiamo dietro! Come faccio? Come faccio? Sto il pando? Attento, dietro! No! Sono partito, sono partito, sono partito io! Non ti restavo! Ciao, Carminava! Ciao, Carminava! Grazie di cuore per l'abbonamento, carissima! Bentornata! Grazie al quinto mese! Via! Vabbè! Morte con noi! Bisognava salvarlo! Ragazzi, però questo gioco... Io posso ancora tornare in vita? Dobbiamo... Eh, io no! Come no, Poldo? Eh, io sono tornato in vita prima! Ah, adesso poi ti restiamo! No, sono proprio morto io! Ah, non... Si può... Si può... Si può restare, si può restare! Eh, mi ha crociato il gioco! Eh, vabbè, però... È idem proprio a me! Ma anche adesso? No, 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 prima era crociato! No, sì! Sono vivo, sono vivo, sono dentro, sono dentro! Oddio, ragazzi, che bordello sto gioco! Oh, Gesù, che bordello sto gioco! Penso che sia uno dei giochi più casinisti che qui abbia mai giocato! Vi devo prendere un attimo di pausa per... Sopravvivere psicologicamente a questa cosa! Che bordello! Il gioco del gaming! Ma sì, ma è un gioco molto especiale, però... Mi sta... Mi sta rompendo il cervello! Quindi... Continueremo dopo! Continueremo dopo! Ciao, Monche! Ciao, amici, come va? Ciao, Nova! Nova è risuscitato dal ghoul e che si è lanciato fuori dalla save! No, vabbè, Nova è come sempre il migliore! Non posso muovermi! Lo scarro! Porco due! Eh? Non bestemmiare, Nova! Porco due! Eh, ti ho strippato! Eh, niente! Beh, vai, toccate a Bertro, non ho armi, eh! Guarda quante ne ho io! Ma quante armi ci sono? Wow! Ma ho troppe armi, raga! Io sto facendo una girella, sto facendo, un giro tondo, per muovermi! Beh, raga, sono troppo... Sono in safe, eh? Oh no, oh no! È arrivato Gaetano con la sua polo modificata! Voldo, cosa devo fare se mi si approccia a Gaetano? Allora, devi dirgli, l'omine che può far me ne tutte cose non ha paura di niente! E lui ti risponderà automaticamente! Dai, diglielo! Veloce! Beh, voglio buona sta pizza! Giusto? No! Oh! Niente! Ok, se adesso qui muore qualcuno può prendere un'altra... Bertro! Aiuto! Ma sei fuori safe di 20 km, Nova! Ma sono di tre di te! Ma? Sono di tre di te! Per me sei fuori safe da 30... Ma... ma? Io ti vedo bloccato fuori safe! Eh, io sto facendo un 360, ma sono fianco a te io? Non ti vedo! E qua! Ma? Ma in che senso? E va bene, ma allora io cosa devo fare per sopravvivere a questi ninja samurai? E' morto? Oh! No, no, non è bomba! È impossibile sparare a questa cosa! Crema! Bastardo! Niente, è un po' impossibile uccidere questo... Niente, vabbè vaffanculo! Vaffanculo! Poldo? Eccomi! L'abbiamo vinta, forse? Come avete vinto? Eh sì, sono immortale! No, io non riesco a vedere niente, questo è il problema! Io sono immortale attualmente! What? Sì, giuro! No, è nuovo, si è rotto! Poldo, mi inviti? Sì! Invita! Hai risvegliato l'antica elettroscimmia! Ciao, ho stato una non comunista, bentornato! La rossa! Sala rossa, buona! Un po' chimica, ma buona! Ti è arrivato l'invito? Ok, ti rinvito! Ok! Yeee! Ci sono! You are boomer! Ci sono! You are boomer! Vai! Play! Ah! Amici, il gaming è molto difficile! Devo essere sincero con voi, è stato veramente arduo in questa partita! Infatti, sono deceduto! Ciao, Bertra! Dove sei? Ciao! Ti togli il casco, per favore! Mi dà fastidio! Perfetto! Allora! Dove andiamo? Boh! Nova? Ah, ma che ne... A caso, c'ho il cuore! Scusa, andiamo a Toy Work qui! Boh, moririamo subito! Andiamo da Talli Welly! Cazzo, mi ha lanciato in Cina! Ok! La pirateria ammazza il Cina! No! Oddio, ma siamo tipo... Ma ve lo ricordate il Cina? Faceva tipo FIFA! Sì! Ma fa ancora pensare! Mi faceva ridere! Il Cina, cioè ti chiami il Cina, che bello! Mi sto sparando, non so armi! Mi sto sparando, non so armi! Help! Dove sei? Dove sei, Nova? Eh, niente! Alla che... Alla che... Andiamo da Nova, andiamo da Nova! Eh, dove sei, Nova? Sotto, sotto, sotto! Sotto! Mi sta aprendendo a pugni! Mi bullizzo qui! Help! Oh no, c'è un tipo da me! Bravo! Bravo! Raga, arriverei, ma non lo colpi! Niente! Eeeh, quanta gente c'è, Riccardo! Non ho colpi, non posso! Ma ho ucciso sborro! Ma come? No, figlio di... Fallito di merda! Madonna, ti scopo! Devo mettere gli occhiali da gaming! Sarà questo, amici! Ma fa' il culo! Vogliamo respawnare? Sì, respawniamo! Eh, sì, sta respawnando! Occhiali da gaming e si respawna! Mmm, mi ha ucciso un coreano! Ma chi? Quello? Eh, sì! Proprio lui! Il Corea Gaming! Disgraziato! Maledugato più... Ah! Che è successo? Ho sborato! Oh, 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 ho sborato! No, vabbè, troppo noi! Come si fa? No, amo noi! Io ce l'ho fatta! L'ho passato il terzo! Ma il terzo? Ma come fai? Comunque... Ah, andiamo al tuo punto di spot! Andiamo al tuo spot! Andiamo al tuo punto di spotting! Andiamo da spot! Andiamo a train spotting! Eh, potete aiutare, per favore? Potete aiutarmi? Non posso muovermi, per favore! Sì, vabbè! Elf! C'è qualcuno da me? Aiuto! Aiuto! Pollo, c'è un tipo! Scappa, scappa! L'ho visto, l'ho visto! Ho armi, ho armi! Lo possiamo gioccare? Eh, sono bloccato io! Dove sei? Eh, ma sei in culo! Come faccio a dobbiamo aiutarti? Eh, sono in sei! Sì, mi sono in sei! Ho ricordato poi! Cosa vuol dire che sei in sei stuck? Sono stucked! Ma perché? Cioè, ma proprio nel muro, tipo? Sì! Ma? Ciao Bertra! Arrivo dai alberi come Romeo! Aspetta, che qua ci sono armi! Dove? Ho bisogno di... Madonna! Che gamer! No, no, la desidero! Madonna, sì! Questa fa anche più più! Madonna! Ho catturato un otto scop! Se c'è un cecchino, dammelo! Madonna! Scoppi otto volte! Sei troppo pochino! Mamma mia! Sono un vero gamer! Secondo me stiamo abusando del termine vero gamer! C'è qualcuno! Dove? No, no! Su un cascato! Polto! Polto! Autorevolver? Nel senso che è un'automobile! LOL! Scusa! Ma come fa a essere più gamer di me? Dove sei? Dove sei? Amo! Sono qua! Oh, cazzo! Arrivo! No, vabbè! Non so sparare! No, vabbè! M'ha ammazzato un russo questa volta! No, ce n'è troppo noi! No, va ancora stack, vero? No, va! No, va! Eeeh! John Wick! Ma hai la skin di Fortnite, dici? Eh, vabbè! F! No, no! Non ci risponde neanche più! Sì, ormai è un vero gamer! No, va! No! No, va! 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 È veramente stuccato! No, mi è crashato! Ma come ti è crashato? No, ti prego! Scrasha! Quinto dalla partita! Ho quitato dalla partita e mi è crashato! Siete morti? Ciao, no! Bentornato! Vabbè, siete morti? Sì! Io sono uscito dalla partita perché mi si è bloccato! Che dite, amici? Facciamo l'ultima perché a me fa molto male la testa! Va bene! Comunque questa è la situazione, guarda Discord! Ma io ho visto! Sì, ti ho aspettato un attimo! Questa è la situazione! Non posso muovermi, sono stacca! Non puoi né scendere né salire! No, nulla! Sono bloccato dentro la scala! Non c'è uno scritello! No, aspetta! Devo farlo vedere! Aspetta! Aspetta! Mi sono proprio buttato in mezzo alle scale di finito! Niente! Guarda! Lo stacca! Niente! Eh no! Eh no! Si è rotto nuova chat! Niente! La chat si è rotto nuova! Niente! È un vero stacca! E qui! Please! Quintala dalla partita e facciamo un'altra! Esci, vieni da noi! Amo! Ok, gli occhialini da gaming per l'ultima vera partita, ragazzi! Aspetta! Dobbiamo essere... Aspetta! Io mi spavaggio gli occhialini da gaming! Ce li hai? Non lo so! Vediamo! Vi dobbiamo andare a controllare se ho altre gli occhiali da gaming con una spirina! Vai, metto gli occhiali da gaming! Da gaming! Aspetta, ma sono gli occhiali da Tectonic! Quelli con le barre nere di lato! No, sono gli occhiali da MLG, zio! 2015 pure! Aha! Io prendo legna! Sto raccogliendo legname! Questo ne lo sanno... No, non ti lo sanno... No, calmati, boldo, calmati! Scusa, ho perso legno con troppa foca! Dai, questa la vinciamo! Che bello è il beatbox in questo gioco! Che bello l'hard bus! Madonna, parkour? Parkour? Entro dalla finestra e guarda... Lion, no, no! Dove? Dove, 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 dove? In che città sei? Qua è il container, sui container! Container? C'è Lion, non ci credo... Ti prego, facciamo un video su Minecraft insieme, ti prego! Dov'è? Fammi trovare quel maledetto! Lion, ti prego! No, dai, diventiamo... Ti prego, Lion, no, non scappare! Lion! E ancora una volta! No, cioè, sei troppo tu! No! Non l'ho potuto vedere! Droppiamo da Lion, non andiamo al container! Andiamo qui, amici, andiamo a Big Power! Andiamo a Big Power! Ok, va bene! È lontanissimo! Appunto, dobbiamo effettuare bene il gaming in questa partita! Ar, Boomer! È il mio più bello di... Cinque, quattro, tre, due, uno... Sganciare! La puzza! La puzza! Non ce la facciamo, amici? Ripiega... Anzi, no! Andiamo sul ponte, andiamo sul ponte! Eh, appunto, io vado sul ponte! C'è Pierino che fa... Che fa la merda! Non sono caduto! Pierino che fa la merda a momento! Vai, andate! No, vabbè, troppo noi! Non c'è nulla messa nel ponte, sai? No, sì, sì, c'è, io ho una balessa! Ma che cazzo? Mi sono incastrato nel ponte! No, ok, ci sono! Sotto il ponte di baracca c'è Pierino che fa la merda! Sì, sì, ma ci sono gli oggetti! Hai fatto anche il cacca! Hai fatto la battuta, la battuta della cacca! La battuta, la battuta della cacca! C'era una canzone che si chiamava tipo la canzone della cacca! Faceva tipo... Forse, forse, forse... Nooo! ...è la mia cacca! L'ascoltavo da piccolo quando dovevo fare la merda! Ma è quella che ha vinto lo zecchino d'oro, giusto? Lo zecchino d'argento, scusa! Poi quando hai iniziato a fare la short ho detto basta! Madonna, ti sono fatto la... 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 La cacca lasciò... No va! Traditore bastard! Water gun! Qua ci sono dei pompa e delle armi! Vabbè, cazzo! Guarda, guarda, no va! Yoink! Yoink! Cosa che è? Una pistola d'acqua! Ma? Oh! Ti fa danno? Fa danno, sì, sì! Cazzo! Che bello! Come sta correndo il mio personaggio? È zoppo! C'è il personaggio zoppo! Ma che è davvero? Ma... Ti sono incastrate le gambe tipo... Che andiamo a lottare qua, dai! Basta, scollati! Ok, meglio, si è scollato! Che butto che questo? Ok! Non so se questo è un fusile a pompa! Chi ha sparato? Che è successo? Cosa è questo? Un laser sight? Che è successo? Lo metto qua! Lo metto nella mia water! Ma io ho la carpa 64 o vuoi? Dai, 70... Cioè, io ho un laser nella pistola d'acqua, ragazzi! No, vabbè, sei troppo tu! Um, però... Sono un cazzo di gamer! No, vabbè! Una palla del Napoli! Una palla Napoli! Ah! Chi mi ha sparato? Ah, i nemici! I nemici! Ah, mi sparano! Dove stanno i nemici, scusatemi? Dove stanno? In fondo al tunnel! No, no, no! Non approcciate! Venite qua dentro! Venite qua dentro! No, zio, io li sto approcciando tantissimo! No, però veni qua dentro, fidati! Mi hanno detto che gli sto super simpatico! Mi fanno un mostro di l'ora, dico! C'è un botto di lutte! Venite! Luttate, pezzi di merda! La balestra è... Che ho trovato! No, fermo, che ho trovato! Che ho trovato, fermo! Che hai trovato? Non lo so! E allora che cazzo dici che hai trovato? So che è pochissima sta cosa, so che è pochissima! No, sto cadendo di sotto, aiutatemi! Ho il mini rino per due! No, ho trovato una a 12! Non ci credo, ho trovato una a 12! No, vabbè! Ho il mini rino per due! Che è che sta? Morca, 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 morca! Ragazzi, ho la mini gara! Su di fondo, arrivano, 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 arrivano! Ho le gambe incastrate, aiutatemi! Dove state? Io sono qua sopra! Vai, arrivano, sono due persone! Dove sei, Nova? No, non sono più di fianco a te, dove cazzo sei? No, vabbè, stai facendo il fight! Uh, mi ho zicchinato! Oh, racco due! Madonna, che bello, l'abruzzo! Quando, quando, sei... Ah, mi ho chiuso dentro! Ah, ma sei tu, Nova? Sì, sei safe così, una barriera! Ne hai fatto paurissima, brutto, infame! Però sto senza vita, ma è possibile! Cosa c'è qua dentro, ragazzi? La sbura! C'è qualcuno dietro di noi, amici! Eh, arrivano i nemici! Arrivano i nemici, arrivano, arrivano, arrivano! Bertro, Bertro, stai mirando? Mi sto curando, eh! Ti vedo! Dove arrivano i nemici, ragazzi? Io sono con una minigame! Eh, ma hanno uno sniper che toglie un botto, ma porco due! Possiamo farcela, amici! Iiii! Butto la fumogina, via 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 via! Fumogina, fumogina, fumogina! Abbiamo avuto la stessa idea insieme, siamo troppo noi, amo! C'è incredibile questa cosa! Ora mi... Run, run, run! Che è sto rumore di acqua? Sono io che sparo con la pistola d'albura! Non capivo! Ma fa veramente danno o non ne fanno qua? Oh, arriva, 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 no, chi, 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 chi! Mi ha tutta la vita! Dove sono? Stavano un botto sti qua! Non lo so! Non lo so, non lo so che sono! Ah, in fondo, guarda, guarda lì! Uh, lo è intato, lo è intato, lo è intato! Ragazzi, la minigun è impossibile da usare! Avete un mirino per la minigun? No! Ok, uno andato, uno! Mi sono andato... Uno lo ha shottato fortissimo, gli ho cancellato l'albero, gine, aia! No! Mi sono buttato una grotta per terra per errori! Poldo, tirami su! Poldo! Arrivo, arrivo! Uno è lato! Via, 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 via! Aiutate! Ritrano, 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 ritrano! Resta, resta gli altri, ritrano, resta! Dove è metterla? Resta io, resta io, resta io! Sto restando io, sto restando io! No! Ragazzi, che fastidio! Che fastidio questo gioco! Possiamo respawnare! Sì, respawniamo! Ci hanno investito col cecchino, comunque! Sì, madonna, ma... Ma io, te lo stai, mi sono morto! Stavo in certa granità! Mi hanno colpito e mi hanno tenuto per terra sotto i miei piedi! Eh no! Perché caduti in rag del mio personaggio! Niente! Ho preso il primo solo di rinascita, faccio schifo! Eh, pure io! Regula che ti ho spiegati! Pure io, pure io! Cos'hai che so? Dannazione gamer! Non possiamo finire così! Ho la maledizione del caricatore piccolo! Guardate la mappa, amici! Ah, va bene! Andiamo al castello! Andiamo al castello! Andiamo al castello! No, io c'ho il cazzicatore piccolo! Madonna, ragazzi! Possiamo essere quei server sul tre! No! Oh no, ma c'è gente! Eh, bella raga! Eh, niente, da sta partita! C'è una macchina! C'è gente! C'era gente sulla macchina! Non andare di qua, Bertro! No, no, no! Ma questo, no! No, no, no! No, 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 no! Io non mi sento di quello che spara sempre, ma no! No, 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 no! Oh! No, 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 no! Ho un'arma! Ho un'arma senza rupi! Io no! Carica, carica l'arma, carica, carica l'arma! No! Che mi spara solo l'arma! E il giocabile che spara sempre! È il giocabile che spara sempre! Niente, è impossibile! Arrivo, poldo! Entra in questa cazzo di macchina! Vieni per troppo! Sali! No, no, no! Vai, vai, vai! Presto, vai! Vai! Andiamo da nuova! È a terra nuova o lo possiamo prendere? No, 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 andate via, andate via! Investi quel figlio di puttana! Dov'è? Perché mi guardi mentre guidi? È lì davanti! Forza Napoli! Che, che, che... Oddio! No! No, poldo! Guarda, 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 guarda! Forza Napoli! No! Poldo, vai via! Vai via di qua! Subito! Ciao, Bertrand! Ah, no! Scaffa! No, poldo! No, no! T'hanno ammazzato il pilota! Me ne vado, me ne vado! Dopo cascando la sedia, scaffa, Bertrand! Ah, sono morto! Amimir! 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 No, no, sono un coglione! Amimir! Ma quanta vita hai? Vida, mi! Ma pensavo che era finita la partita, ma quanto dura! No! No, c'è la safe zone lì! La safe... No! Aya! Ma... Aya! Mi è addormentato! No! Vai, ti è in safe! Scappa, poldo! Posso ancora salvare... Oh, no! Che cos'è? Ma? Ma? Ma se sparo mi prendo in testa, no? Au! Ma come fanno esserci 25 persone vive? Non lo so, ma ci sono... Perchè non sto morendo? Ah, ma ecco bello... AAAAAAAH! AAAAAAAH! Un urlo molto... Cos'era... Cos'era quell'urletto, poldo? Mi sono spaventato! Mi sono fatto malissimo! Mi sono spaventato! Come vuol dire? Mi sono fatto male! Come? Ho visto il nemico... Mi sono morso la lingo! Mi sono fatto male! Amici, io non ce la faccio più, scusatemi! Credo che vi abbandono qua! Questo gioco mi ha tirato giù tutte le energie e la parità mentale! Sei un po' distrutto, spaventato! Sì, ma... Mi sono impegnato troppo in questo gioco, di solito... Non mi impegno mai così tanto! Quindi mi fa male sia la testa che la lingua, che tutto! E mi è pure crashato il gioco, come se non bastasse! No, ma te ne fai ancora una? Oh, Gesù! Che ore sono? Le 22 e 16 Vai, ce la faccio! Tu continui una live per molto, Bertra? Eh? Sì, faccio una live... No, non so quanto, però un'altra... Dai, allora... Li lancio da te! Va bene! Mamma mia! Mio Dio! Ciao, Bertra! Ciao, Poldo TVB! Ciao, ciao! Amici, io vi ringrazio per essere passati! Porca tre amici, che sofferenza! Vi farò sapere quando sarà la prossima live! Seguitemi su Instagram, però credo che né domani né dopodomani riuscirò per impegni vari, sapete perché c'è la mia ragazza, quindi sarà leggermente un casino! Io però voglio ringraziare per essere passati in live anche questa sera, editeremo questa live e pubblicheremo il video, non vi preoccupate! Per il resto, ragazzi, grazie di cuore per essere passati a tutti quanti! Noi ci vediamo la prossima volta che vi informo su Instagram, vi lancio da Bertra! Ciao amici, a presto!